da quest'anno l'associazione giostra di cesena ha deciso di attribuire un premio alle persone che si sono particolarmente distinte nell'opera di rinascita della giostra quest'anno fra gli altri premi è stato deciso di attribuirne uno a roberto cinquegrana ma in rappresentanza diciamo di tutta la compagnia dell'aquila bianca che ci ha accompagnato nella ricoperta della giostra dal 2018 fino a oggi grazie